Penso che si ha visto che mia squadra sta facendo un campionato sopra ogni possibilità e quando non siamo proprio al 120 per cento top 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 escono anche prestazioni di questo tipo anche se fino adesso non è mai successo per cui oggi sono poche volte ero così felice con un punto conquistato perché penso che Sanità meritava di più. Grandissimo Alex ogni tanto ci vuole bene Penso di sì però bisogna stare molto attenti perché vedo che ci sono prestazioni tipo anche se prendo Pescara magari qua fa una grandissima fatica dove Sanità non meritava di più poi prossima partita fa la grande a Cagliari per cui bisogna stare veramente molto attenti prepararsi bene per ogni partita perché non vuol dire se fai bene oggi che anche la prossima vai forte però come squadra, struttura, giocatori non credo che potrebbero avere problemi